Argomento del giorno, la pallavolo teatina è neopromossa in B1, anche la squadra è veramente forte. Confermato Giorgio Nibio, responsabile della comunicazione, Giuseppe Mrozzec. Una squadra che è stata in gran parte rivoluzionata. Sono arrivate due nuove centrali, Sofia Spadoni, giocatrice da un curriculum importante che ha già vinto più volte in carriera la B1, una ragazza come Maddalena Micheletto che è pure la titolare in B2, Claudia Palumbo, che dovrebbe essere sulla carta di riserva, anche lei titolare in B2. L'altro grande colpo di mercato è stata sicuramente l'alzatrice, Beatrice Giroldi, una giocatrice di categoria superiore. Negli ultimi due anni ha militato in A2, ma c'è anche il nuovo opposto, Sara Gotti, c'è il nuovo libero, Valentina Torrese. Insomma, una squadra davvero completa, sommandosi alle ragazze che sono rimaste, come Culiani, D'Angelo, Galliero, la giovane Ilaria Maiezza, che sarà il secondo libero quest'anno. Insomma, con la guida di Giorgio Nibio noi riteniamo di aver fatto una squadra che possa ben figurare in un girone comunque duro, come il girone D di B1, dove, a nostro avviso, Cerignola e Aragona, oltre alle abruzzesi, sono le avversarie più pericolose. Ci saranno tre abruzzesi, quindi tanti derby. Io penso che sia una cosa bella per tutto il movimento, di avere ben tre squadre in B1, tre squadre, secondo me, tutte di ottimo livello, che potranno fare un bel campionato. Il patron Giustino Angelo non si è mai nascosto e ha detto che vorrebbe raggiungere addirittura la 2, quindi con una doppia promozione. Però la città deve stare vicina a questa bellissima realtà. La grande speranza, diciamo, di quest'anno è che, dopo il bel campionato dell'anno scorso, e confermando un campionato di vertice in B1 quest'anno, possiamo ottenere dalla città un maggiore seguito. Già l'anno scorso, devo dire, c'è stata una crescita del pubblico da questo punto di vista. Speriamo di averla ancora di più, perché gli sforzi della società lo meritano, perché riteniamo che la pallavolotetina ormai sia una realtà vincente dello sport della città, e quindi invitiamo tutti a seguirci, a venirci a vedere le partite, perché è davvero un grande spettacolo di sport, prima di tutto, e poi anche un rendere omaggio alla propria città.